Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Stamattina è passato il corriere, quindi oggi unboxing. Non vedo l'ora di spacchettarlo, quindi procediamo. Anche se non so se questa cosina bellissima rimarrà a me, perché qui c'è una certa bambina di nome Susanna che me lo vuole fregare. Ciao! Vero? Sì. Ecco appunto, questa qui è una ladra. La scatola si presenta così, il brand è questo. Comunque trovate tutte le informazioni, codici sconto, link tutto in descrizione e nei commenti. Smart Watch con il simbolo del telefono. Quindi questo mi fa supporre che possa anche fare delle telefonate. Ok, qui ci sono un po' i dati tecnici. E apriamo. Apriamo un po' da dove siamo. Io ho preso il colore nero. Se ce la faccio. Oh, che bello! Questo è il libretto delle istruzioni. Qua abbiamo il nostro caricature. che funziona così, con la presa USB classica. E qua abbiamo l'orologio semplicissimo, con il cinturino in plastica, in cauciù sembra. Andiamo a caricarlo. E dietro è fatto così. È fatto molto molto bene. A vedere così sembra proprio fatto bene. Accendiamo il nostro orologio. Questo è il brand. Scegliamo la lingua. Italiano. Ok, andiamo a fotografarlo. Ok. App Store. Eccolo qui. Ottieni. Aspettiamo che si carichi l'applicazione. Nel frattempo lo vado a mettere un po' sotto carica. L'utente. Come collegare l'orologio. Aggiungi per codice. Aggiungi per ricerca. C'è di collegarti col telefono cellulare. I vari cerchi che indicano i passi, le chilocalorie e la distanza percorsa. Riepilogo di tutti gli esercizi. Distanza totale, calorie, tempi totali. Vabbè. Adesso è tutto a zero perché appunto l'abbiamo appena acceso. Su centrale possiamo scegliere come vogliamo vedere il quadrante dell'orologio. Dopo andiamo a vedere tutti i dati sanitari. Sonno, peso, frequenza cardiaca. Questo che non mi ricordo mai che cos'è. Fatica e ciclo mestruale. Torniamo indietro. Allenamento. Corsa all'aperto. Camminata all'aperto. Ciclismo. Abbiamo anche il GPS in profilo. Abbiamo anche le medaglie. Come l'Apple Watch. Qui impostiamo tutto. L'avatar. Album, fotografia, nomo utente, sesso. Qui possiamo modificare il target. Poi torniamo giù. Spinta all'esercizio. Qui abbiamo altri dati. Notifica. Impostazione di promemoria. Promemoria in attività. Promemoria idratazione. Sveglia, svegliati. C'è tutto. Controllo condizioni di salute. Monitoraggio in tempo reale. Trova dispositivo. Altre impostazioni. Devo dire che è fatto veramente, veramente, veramente molto bene. Carino. È appena arrivato. Lo proverò. E poi vi farò sapere nei vari vlog, insomma. Quindi, mi raccomando, seguitemi. Mettete mi piace. Condividete. E commentate. E prossimamente vi dirò come sta andando l'orologio. Ma ora ritorniamo al nostro orologino. Finito di installare quello che andava installato. Finito di impostare quello che andava impostato. Il nostro smartwatch si presenta così. Naturalmente è tutto a zero perché, lo ripeto, l'ho appena aperto. Se col dito andiamo verso sinistra, ci escono fuori tutte queste informazioni. Ok. Se col dito noi invece andiamo verso destra, ci esce fuori questo pannello. Comporre, contatto, record di chiamata. Possiamo chiamare? Non lo so. Proviamo. Ho provato a digitare il numero e a chiamare e mi parte la telefonata sul telefono, non sull'orologio. Devo ancora capire bene come funziona. Però, più o meno. Se andiamo in su, nessuna notifica. Se andiamo in giù, c'è il pannello delle impostazioni. La luminosità, la batteria, la chiamata, le impostazioni, la lingua, la batteria, info, suoneria. Insomma, è fatto veramente molto molto bene. Se andiamo su più, ah vedi, possiamo aggiungere queste cose qua. Ok. Proviamo a uscire. Proviamo a rifarlo. Eccolo. Bello. La sveglia. Devo dire che è veramente un orologino molto completo. Pressione, sport, sonno, il meteo, la sveglia, il timer, il cronometro. Abbiamo anche la torcia elettrica. Ah, bella. Trova telefono, i messaggi, la musica, la telecamera, imposta. Bello. Molto molto grazioso. Poi vabbè, con calma ve lo studiate, ve lo impostate come meglio credete. Però, ripeto, per il prezzo che ha, è fatto veramente bene, bene, bene. La ricarica è semplicissima e ci sono vari cinturini di ricambio su Amazon. Basta che abbiano questa chiusura, ne trovate di ogni. Carino. Prima impressione, veramente top. Bello, mi piace.